nessuno nessuno dico deve sapere di quella partita doppio tagliata male sono stato chiaro? no, siamo con più meglio per voi ma non l'ho pensato proprio io vi faccio male signora, si sente bene? si bene, tutto a posto ha bisogno d'aiuto? ho fatto il stupendio, c'è del tempo che vuole ricompensare un po' angosciata dalla morte di me frequentava cattive compagnie negli ultimi periodi ci frequentavamo di meno dopo il periodo del genere però gli volevo ancora un mare di bene credo che mancherà molto nella mia vita e in quella dei nostri parenti ed ex compagni di scuola ancora non ci credo che mio cugino sia morto credo che assumeremo un investigatore privato e un'idea di mio padre sperando di donare pace all'anima di Mario guardi, non vorrei aggiungere altro, mi perdono sono molto stanca ho riposato poco in questo giorno stia tranquilla, la confermo ho saputo che in comune c'è la televisione il sindaco sta facendo un appello contro la droga andiamo vicino e vediamo di capirci qualcosa con l'obbligo, con cazano grazie a tutti